Nonostante l'aumento dei contagi, pare che la curva negli ultimi giorni si sia appiattita. Certo, l'incremento giornaliero non si abbassa sotto gli 80, dunque si tratta di numeri importanti per ciò che riguarda il capoluogo. Sono 376 positivi registrati nelle ultime 24 ore, 96 a Caltanissetta, dove in totale i positivi sono 1.254, dei quali 10 ricoverati, si contano ancora decessi, 1 nelle ultime 24 ore, un paziente proveniente da fuori provincia, 41 in tutti ricoverati in malattie infettive e nessun ricoverato in terapia intensiva, quasi a quota 5.000 il numero totale dei positivi nella provincia di Caltanissetta.